Festa della Donna è un evento che va festeggiato con le giuste riflessioni. Noi lo faremo alla nostra maniera pensando alla donna come madre. Ben ritrovati alla puntata numero 22. Sommario. In questo numero, donna dall'attesa al parto e l'accoglienza del nuovo nato, i servizi offerti in sanità per le mamme, Etica. La nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio. Trapianti. Il tema del silenzio assenso. Dialisi. Attivato il servizio presso l'ospedale Magalini di Villa Franca. Screening. Le donne sono invitate ad aderire agli inviti fatti dalle ULS per la mammografia. Sedentarietà. Piccoli cittadini per grandi strade. Un concorso invita a camminare. Guadagnare salute guadagnando sulla spesa. Mettiamo a confronto qualità e prezzo della spesa settimanale con i suggerimenti del Sian.